Musica Terza edizione del Bond Vigilantes Day di M&G Investments presso la cornice di Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana. L'evento, dedicato a promotori finanziari e private banker e presentato da Matteo Stolfi, Country Head per l'Italia, ha visto avvicendarsi sul palco Niccolo Carpaneda, Investment Specialist del Fondo M&G Short Dated European Corporate Bond, Stefan Isaacs, gestore del Fondo M&G European Corporate Bond, Mike Riddle, vicegestore del Fondo M&G Global Macro Bond, Gordon Harding, Investment Specialist del Fondo M&G Optical Income. Forte la componente social e l'interazione con il pubblico, sia tramite Twitter, sia attraverso domande alle quali i consulenti finanziari hanno potuto rispondere in tempo reale. Grazie.